Sono stanco. Voglio solo dormire un po'. Qui è tutto pieno di cheeseburger. E sono tutta sola. È il giorno più bello della mia vita. Che suono è quello? Eccola di nuovo. Cavolo, voglio tornarci di nuovo. Era tutto pieno di cheeseburger. Zitto adesso. Adesso basta. Adesso è buono. Vado a farmi una doccia. Papà ha ascoltato una canzone davvero fantastica l'altro giorno. Si chiama Major Tom o qualcosa del genere. Com'è andata di nuovo? Oh sì, ho capito. Lisa canta di nuovo sotto la doccia. Ho bisogno di ascoltarlo. Oh sì, è perfetto. Devo registrarlo. È la mia vendetta. Caricherò l'audio. Samuel, cosa stai facendo qui? Ah, non sto facendo niente. Sara mi ha mandato un messaggio. È quale canzone è completamente imbarazzante? È una vendetta per quel cuscino puzzolente, Lisa. Mi hai registrato mentre cantavo? Ora è uno a una Lisa. Vieni qui, idiota. Che tipo di video è quello? La canzone imbarazzante di Lisa. Devo fare click su quello. Oh no, Lisa canta Major Tom. Questa è la canzone più imbarazzante di sempre. Perché lo sta facendo? Perché l'hai fatto, Samuel? Hai scoreggiato sul mio cuscino. Quindi cosa? Non devi distruggere subito la mia vita. Tutti rideranno di me. Oh, non ci avevo nemmeno pensato. Elimina immediatamente il video. Ok, lo cancellerò. Oh, oh. Che succede? Penso che eliminare il video non sia d'aiuto. Perché? 500 persone lo hanno già scaricato. È su internet per sempre. Domani rideranno tutti di me. Scorreggerò in tutta la tua stanza per questo. Forza ragazzi! Vi porto a scuola. Posso restare a casa oggi? No. Perché? Non mi sento bene. Smettila di saltare la scuola. Stiamo partendo adesso. Cosa c'è che non va con te, Lisa? Sembri così preoccupata. Sarà una giornata dura. Perché stai scrivendo un test? No, ma qualcosa del genere. Va bene. Vengo a prenderti dopo la scuola. Divertitevi. Sei pronta, Lisa? Sì, facciamola finita. Ok, sono d'accordo. È semplicemente troppo divertente. Guardate chi c'è, ragazzi. C'è il nostro maggiore Tom. Ti suona familiare Lisa? Ti prego, spegni Miriam. Perché? Forse perché è del tutto imbarazzante. Tra una settimana, a loro non importerà più, Lisa. No, ne riderò tutto l'anno. Non lo sopporto qui. Me ne vado a casa. Fantastico. La mia serie segreta è di nuovo in onda. Fortunatamente non c'è nessuno in casa. Chi mi sta chiamando in questo momento? Non posso guardare la mia serie una volta? Sì, salve. Sono Martin Peters. Salve. Sono Nadia di Weiss of Germany. Ti riferisci al programma televisivo? Sì, è esattamente così. Oh mio Dio, hai ricevuto la mia candidatura, vero? Hai intenzione di invitarmi? Questo è il mio sogno più grande. Beh, no. Anch'io sarei felice di cantare qualcosa per te. Baby, sei il mio sole. Non voglio mai stare senza di te. Ci piacerebbe invitare Lisa Peters. Cosa Lisa? Ma non canta mai. Abbiamo visto un suo video. Ci ha convinto. Può venire al casting domani? Uh sì, certo. C'è forse posto anche per me al casting? No, sfortunatamente no. Ok, lascerò Lisa domani. Lisa, ho buone notizie per te. Sì, per favore. Mi servirebbero delle buone notizie. Siamo stati invitati a The Voice of Germany? Cosa? Davvero? Sì, vogliono che andiamo all'audizione domani. Sei solo tu, in realtà, ma sto anche tentando la fortuna. Non me l'aspettavo. Nemmeno io. Diventeremo delle superstar. Devo prepararmi. Devo esibirmi domani. Lisa, puoi farlo. Oggi è il tuo giorno. Adesso vai laggiù e stai vincendo. Perché sei la cantante più sexy e cool del mondo. Lisa, vieni? Dobbiamo andare. Sì, arrivo. Cosa indossi lì? È il mio abbigliamento per il palco. Pensavo che Lisa avrebbe cantato, non tu. Una volta lì, convincerò la giuria. Questo ci dà una doppia possibilità di vincere. Ok, andiamo. Non voglio arrivare in ritardo. Oh cavolo, sono così eccitata. Perché? Non ho mai cantato davanti a un pubblico così numeroso. Non sei nemmeno invitato. Ehi, sai che è il mio sogno. Mi accompagni al casting, per favore. E concentrati sulla strada. Devo esercitarmi nuovamente con i testi della mia canzone. Sai già cosa stai cantando? Sto cantando di nuovo Major Tom. È la mia canzone migliore. Vincerò sicuramente con quello. Siamo arrivati. Sei pronta, Lisa? Sì, sono nata per questo. Mi piace l'atteggiamento. Salve, sono qui per il casting. Qual è il tuo nome? Sono Lisa Peters. Sì, sei invitato al casting. Per favore, torna in sala d'attesa. Ti chiameremo allora. Ok, grazie. Sono così nervosa. Non ce la faccio più. Puoi farlo ragazza. È la tua prima volta qui? Sì, è per te? È il mio decimo tentativo. Hai bisogno di più fiducia. E poi ce la farai. Ci credi davvero? Sì, fidati di me. Posso partecipare anche io al casting? Sei stato invitato? Oh sì. Qual è il tuo nome? Sono Martin Peters. Ho solo un Mats Pettersen qui. Oh sì, sono io. Ok, il casting per adulti è proprio lì. Ottimo, grazie. Non hai affatto paura? No, so di essere il migliore. Oh mio Dio, è Tina. Chi è Tina? Non conosci Tina Turna? No, chi dovrebbe essere? Sono tre anni che vince il concorso. Oh mio Dio, Tina, sei davvero tu? Sono un grande fan. Prima baciami i piedi, tesoro. Prima che tu parli con me. Sì, certo. Qual è il problema con lei? È ultra famosa. Può fare quello che vuole. Svengia è la prossima. Oh no, sono io. Puoi farlo, Svengia. Grazie per il tuo aiuto. Salve, sono qui per il casting. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Bob. Purtroppo non riesco a trovare nessun Bob nel nostro sistema. Probabilmente c'è il mio nome d'artista. E come si chiama? Bob il costruttore? No, Mats Peters. Ma c'è già un certo Mats Peters nella sala d'attesa. Qualcun altro ha usato il mio nome? Finalmente è arrivato il momento. Il mio grande giorno è arrivato. Presto sarò famoso. Anche tu sei qui per la prima volta? Sì, ma ho intenzione di vincere questa cosa. Wow, sei abbastanza convinto di te stesso. Sì, certo. Hai mai sentito la mia voce? Posso solo vincere questa cosa. Ok, buona fortuna. Grazie. Forse sarà il secondo. Mats Peters, per favore. Andiamo Martin. Hai aspettato a lungo questo giorno. Ce la puoi fare. Uh ciao. Sono Mats Peters. Comincia a cantare adesso. Se qualcuno si gira, sei nel turno successivo. Canto Oh Baby, è una mia canzone. Inizia subito. Non abbiamo tutto il giorno. Ok, andiamo. Baby, sei il mio sole. Voglio stare con te per sempre. Sarei sola senza di te. Preferisco stare con te. Oh Baby. Oh mio Dio. Dieter Bolsen si è voltato. Significa che ci sto? Volevo guardarti in faccia. Quando mi dici che passerò al livello successivo? No, quando ti dico che sei il peggior cantante del mondo. Preferirei perdere entrambe le orecchie. Che sentirti cantare per un secondo in più. Comunque, chi ti ha invitato? Quindi non sono al prossimo turno? No, esci subito da qui. Puoi smettere di baciarmi i piedi. Grazie Tina. È stato un onore. Ok, ora esci da qui. Non vincerai comunque. Ok, come dici tu Tina. Sei nuovo qui, vero? Sì, è la mia prima volta. Basta non illudersi troppo. Nessuno vincerà comunque contro di me. Lisa Peters, per favore. È il tuo turno. Non bagnarti. C'è anche Shirin nella giuria. Lisa, puoi iniziare. Fai del tuo meglio. U ciao a tutti. Sto cantando Major Tom. Inizia, siamo entusiasti. Ok, andiamo. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwererlos Oh no, nessuno si è voltato. Cosa significa? Ci sto. Per favore, canta ancora. Voglio sentire di nuovo la tua voce. Tutti e tre i giurati si sono voltati. Tutti vogliono Lisa nella loro squadra. Finora è successo solo una volta. E questo è con Tina Turner. Chi sceglierà Lisa? In quale squadra vuoi entrare a far parte di Lisa? Vieni da me Lisa. Ho più esperienza. Abbiamo la garanzia di vincere insieme. No, vieni da me. Ho il potere femminile. Vuoi lavorare con Dieter Bolsen o Shirin? Bravissima Lisa. È stata la decisione giusta. Quella Lisa era fantastica. Sì, potrebbe anche essere in grado di battere Tina. Ci vediamo al prossimo round, Lisa. Quanti candidati ci sono nella stanza con Martin? A, 1. B, 2. C, 3. Lascia un commento.